Abbiamo vinto, abbiamo vinto 2-1 contro il Manchester City Una partita incredibile da parte nostra Incredibile da partite Nag Incredibile la partita che ha preparato l'allenatore olandese Un primo tempo giocato bene sia da parte dello United che da parte del Manchester City Il secondo tempo, l'inizio e il secondo tempo abbiamo sofferto tantissimo Veramente tantissimo, infatti è arrivato il gol di Grealish proprio all'inizio e il secondo tempo Ma poi lo United ha iniziato a prendere coraggio Lo United ha iniziato a giocare come chiedeva Denag, come voleva Denag Abbiamo fatto 1-1 e pochi minuti dopo abbiamo segnato il 2-1 un'altra volta Marcus Rashford che guaglia, anzi supera il record di quei Rooney Sono 8 i gol consecutivi segnati ad Old Trafford Incredibile quello che abbiamo visto oggi Incredibile quello che abbiamo visto oggi Incredibile la prestazione di questi ragazzi Incredibile questo allenatore, io continuo a ripeterlo Mi scendono le lacrime dall'emozione Mi scendono le lacrime da quello che ho visto oggi Ho spaccato tutto, ho quasi rotto il microfono sul 2-1 Incredibile Incredibile Ragazzi abbiamo giocato bene Non è che usciamo come una squadra che ha giocato male e ha vinto di fortuna Perché alla fine il City cosa ha fatto? Il City a livello generale cosa ha creato? Erling Holland dove stava oggi? Holland è completamente annullato dal nuovo difensore centrale del Manchester United Luke Shaw E quella è un'altra intuizione dell'allenatore olandese Perché quando è stato messo per la prima volta difensore centrale Tutti, compreso me Non eravamo convinti di questa decisione Ma poi Tenaga ha zittito tutti un'altra volta Perché oggi Luke Shaw è stato incredibile Wan-Bissaka, vi prego Fatemelo incontrare perché lo voglio baciare Prestazione immensa Rischia la giocata Finalmente questo è il Wan-Bissaka che volevo vedere Rischia la giocata E quando la rischia fa bene perché crea la superiorità numerica Crea la superiorità numerica Incredibile, incredibile Forse l'unico che non mi è piaciuto è stato Ericsson Perché non è entrato bene nella squadra Nel gioco, nel complesso proprio Ma questa era l'idea di Tenaga Perché l'allenatore olandese voleva far perdere L'uomo al Manchester City Perché nel momento in cui Lo United si è pezzato con Ericsson e Bruno Fernandes E entrambi sulla tre quarti Rodri è rimasto incasinato Perché nel momento in cui partiva un contropiede Il City non aveva l'altro centrocampista Che poteva tenere Bruno Fernandes Ed è quello che si è creato Il gol che si è creato È proprio per questo Perché nel momento in cui Rodri rimane da solo O marca Ericsson o marca Bruno Non può marcarli entrambi Perché De Bruyne non rientra Bernardo Silva non rientra E grazie a questa idea di Tenaga Noi ci portiamo a casa Tre punti Ci portiamo a casa una partita Incredibile Incredibile Non ho altro da dire Abbiamo fatto qualcosa Che non ha senso Non ha senso Cioè Basti pensare L'anno scorso L'anno scorso Abbiamo finito la stagione Con le lacrime agli occhi Con le lacrime agli occhi Perché Non pensavamo in un cambiamento Così rapido Questo allenatore Sta trasformando questa squadra La sta trasformando Ogni pedina Ogni pedina Ogni giocatore È fondamentale Per il meccanismo Non c'è un giocatore Che non è utile All'idea di gioco di Tenag De Gea Arriverà anche Butland A livello di gioco Perché le giocherà Le sue partite Dimostrerà anche lui Di essere utile Malasia Shaw Buambisaga Dalot Meguyer Lindelof Varane Martinez Casemiro Eriksen Scott Fred Perché oggi Fred Ha giocato Ha fatto una partita monumentale Bruno Tutti Tutti i giocatori Dal primo titolare All'ultimo della panchina Gioca E gioca per il gruppo Gioca per la vittoria Gioca per l'idea Dell'olandese Questa è una squadra Fondata su un'unica idea Bisogna vincere In gruppo Costruiamo insieme Difendiamo insieme Soffriamo insieme Ci portiamo a casa Il risultato Insieme Questa era una cosa Che non vedevamo da anni Da anni Da anni Io non voglio esagerare Ma era da anni Che non vedevo Un allenatore a Manchester Che utilizzasse Tutte le pedine Che ha in mano Tutte Perché adesso uno dice Eh vabbè ma Maguire Maguire le gioca le sue partite Ne gioca poche Ma le gioca E le gioca bene Perché anche oggi è entrato Sì negli ultimi minuti Ma Ha fermato Oland Dentro l'area di rigore Perché lì Se Maguire Non va a colpire testa Non anticipa Il norvecese Lì Oland si trovava davanti La porta Sono tutti utili Tutti E questa è una forza Ragazzi Questo è un qualcosa Che non dobbiamo Fottutamente Sottovalutare Quando le persone Mesi fa Hanno iniziato Già subito A criticare Il Tenang Dopo quelle prime due partite Devono tapparsi la bocca Devono tapparsi la bocca Le persone che dicevano Che Senza Ronaldo Noi non potevamo Andare avanti Vi dovete tappare la bocca Perché questa è Un'altra L'ennesima dimostrazione Che questa squadra Ha carattere Questa squadra Affoga Questa squadra Ha idee Questa squadra È il Manchester United Non è una versione Una brutta coppia È il Manchester United E adesso forse Inizierete a realizzare Quello che avete Davanti agli occhi Forse finalmente Inizierete a realizzare Che allenatore è Eric Tenag Forse inizierete a realizzare Che questa squadra Non è quella Che voi Voi Insultate Criticate Massacrate Questa non è la squadra Dell'anno scorso Non ho altro da dire Ragazzi Non ho altro da dire Una partita Una partita senza senso Una partita senza senso Hanno giocato Ripeto Tutti bene Forse l'unico è stato Eriksen Che Però Eriksen Doveva giocare In quel modo lì Eriksen doveva Farsi portare via Rotri Eriksen doveva Portare via Rotri E l'ha fatto Perché Rotri Ha sofferto Casimiro monumentale Io è inutile Che continuo a ripete La prestazione De Casimiro Ma Fred Fred anche Wambisaka l'ho detto Rashford È inutile parlarne Ragazzi Veramente Ogni giocatore È utile E oggi abbiamo giocato Anche in maniera diversa Perché solitamente Noi non andiamo A fraseggiare Con De Gea Oggi De Gea Ha toccato 400 palloni 400 Si è cercato Sempre ad andare La palla Su De Gea Perché Perché Si è studiato Il Manchester City Sapeva che il City Soffre Soffriva E soffre Tuttora Le ripartenze Con due Tre tocchi Perché il City È una squadra Molto aggressiva È una squadra Che si crede Fenomenale Ed è così Perché è una squadra Forte Quindi che succede Che quando hai Questa mentalità Alzi il tuo Baricentro E Tenaghi Si era studiato Questa cosa Quindi passate La palla A De Gea De Gea smiste Il pallone E lo lancia A Rashford O lo lancia Bruno Che Bruno Lancia Rashford La partita nostra È stata questa E ragazzi Nel primo tempo Ci siamo mangiati Due Tre occasioni Clamorose Davanti la porta Ma l'idea di Tenaghi È stata Ha funzionato Ha funzionato Ha funzionato Tutto quello Che si era programmato Applausi Non ho nient'altro Da dire ragazzi Non ho nient'altro Da dire Ma escono le lacrime Perché Non pensavo Di poter vincere Col City Non pensavo Di poter Vedere una roba Del genere Io lo dico qui Come ho detto In live Il 14.01.2023 Quindi lo dico oggi Io credo Nello scudetto Io credo Di poter lottare Per qualcosa di grande Non so Se esagero Ma io credo In qualcosa di grande Perché questa partita Dà la piena dimostrazione A tutto il mondo Che il Manchester United È tornato Ed è tornato Pure bello forte Io ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Per la visione Di questo post partita Non ho niente da dire Fatemi sapere sotto Che ne pensate Perché Io tra poco Veramente Vado 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 a Segarmi Ciao a tutti Ragazzi Ciao a tutti Glory Glory My United Grazie a tutti Grazie a tutti.